Sommersa dai rifiuti, la Sicilia ripiombe nuovamente nel caos e allora da Roma viene decretata una nuova emergenza, una misura che permette di affrontare subito il caso Palermo, ma che consente anche al Governo regionale di accelerare l'iter autorizzativo per l'ampliamento delle discariche e la realizzazione di impianti di trattamento e separazione dei rifiuti rimasti finora solo sulla carta. Cosa dovrà fare adesso la Regione? Innanzitutto deve provare a realizzare impianti di compostaggio, trasferenza e separazione che permetteranno di alleggerire il carico di rifiuti destinati alle discariche. Quelle invece tutto resistenti verranno ampliate. La strategia è quella di fare in modo che in ogni provincia ci siano impianti capaci di fronteggere la crisi in atto in quanto le discariche si stanno rapidamente esaurendo. Su questa linea lo stesso Crocetta ha affermato che intanto non sarà realizzato alcun termovalorizzatore e gli impianti su cui si punterà dalle discariche a quelle di compostaggio dovranno essere pubblici per evitare che l'intera regione rimanga ostaggio di qualche soggetto privato. Nel frattempo la Regione ha diffuso il ranova circolare che permette di accelerare le procedure che danno ai comuni la possibilità di gestire in propri rifiuti. Un'innovazione, affermano in tanti, che può fare diminuire notevolmente il costo del servizio.